Il mondo antico in venti stratagemmi è una storia, una storia unconventional, non tradizionale, una storia antica che ripercorre il mondo antico dalle origini mitiche, dalla presa di Troia, fino alla fine dell'impero romano, fino alla deposizione di Romolo Augustolo. Che cosa racconta? Racconta una serie di episodi, episodi salienti della storia antica greca-romana e non solo, costellati da guizzi di intelligenza, trovate, inganni, stratagemmi. Per spiegare che cosa? Per spiegare che l'intelligenza è quella che ha sempre aiutato l'uomo a sopraffare i nemici quando era in guerra, ma anche a sopravvivere. Ha aiutato le donne a sopravvivere in un mondo di uomini, a prevalere sul mondo di uomini. Gli esempi sono tratti dal mondo greco, dal mondo romano, dai mondi orientali, in un insieme, un insieme che è anche rappresentato in una cartina geografica, nella quale chi ha curiosità potrà vedere che cosa è successo in un periodo di tempo davvero molto lungo.